Sessione in rivelazione, Tana di Beratocchio, ritira nel premio Paolo Marcacci, Alessandro Doria, Diego Angelino di centro con un po', premia Valentina Riccio. Buonasera a tutti, innanzitutto. Abbiamo con noi anche Marco Giandomenico e Giulia Lanciotti che fanno parte del cast di Tana di Beratocchio. E che cast, esatto, ma vuoi il microfono subito, no? Eccoci qua, io vi vedo poco, rifletto molto, questo è il premio? Sì, lo voglio, lo voglio. Grazie, intanto Alessandro Doria, tu Carole. No, no, passiamo alla data, ringraziamo voi per averci votato, ringraziamo Mari Borsi che c'è la possibilità di stare qua la domenica a produzione di Tana di Beratocchio. Quindi grazie veramente a loro, se ne abbiamo potuto fare questo. Passo proprio a Diego e poi la passiamo. Grazie, soprattutto poi a tutti gli scontrollatori che ci hanno fatto bene anche in questa stagione dove abbiamo cambiato, diciamo così, in prezzo. E' un po' prima, abbiamo continuato insomma ad avere l'affetto del pubblico, quindi grazie a tutti i nostri scontrollatori. Intanto io con lei che ci ha premiato faccio un selfie in diretta. Poi vi consiglio. Palli, parli sudamericani. Marco, grazie. E, grazie, allora, grazie. Adesso sei leggermente... Aspetta che non mi senta tanta pepe qua, non ti strecco, non ci si capisce niente in radio, però siamo veramente felici di fare veramente tanto radio. Questo mi sa, ma così. No, interpazio. Tu muove, dire, però, che qua per del bene. Allora, io voglio ringraziare, dando caramente a questi tre che portano avanti, va a rilistare la domenica arca neofonica. Insomma, c'è un piangso albo che non ci rivolgo a Bari, inizio, quanta volte. Peccato che ci tiene a Gini. Allora, la presentazione di Enzo Salvi del disco nuovo che ha fatto. Lo presentano adesso. Quello fa 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 fa. Molto grazie per la vostra dolore. Che non rimane a quel paesino. Che ci sono un lito di Enzo Salvi. L'ha fatto, tu ha girato. Grazie a te. Grazie, ragazzi. Valentina Riccio, che ti abbiamo visto prima. Noi abbiamo fatto il zeta. Bene, bene. Valentina Riccio, che l'abbiamo vista nel nuovo video di Enzo Salvi. Complimenti. Grazie, è stato un amore, un piacere, un divertimento. Va, va, va. E continua, poi. E non è riferito alla notte delle tradizioni. 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 Ma scusa, tu hai già premiato? Se le prese una sorda, questo è mio, dammelo. Quindi Valentina Riccio, premia. Pana libera Tokyo. Grazie ancora a Mario e alla produzione di Pianatoio Tokyo, che incontrerete tra poco, che risulta, no? Gira questa voce. Vediamo. Ma Gigi, di lei non mi fa a essere sempre così in forma splendida? Mi alleno. A cosa? Mi alleno a tutto. Grazie. Grazie. Musica maestro. Grazie Valentina Riccio. Grazie. Grazie.